Dobbiamo tornare indietro. Sono laggiù. Se torniamo indietro ci perdiamo. Non abbiamo altra scelta, no? Aspettate qui. Rick! 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 Non dobbiamo tornare indietro. Getta le armi e girati. Voglio vederti in faccia. Subito! Un'occhio. No! 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 I cartelli dicevano la verità. Questo posto era un rifugio. Sono arrivate delle persone e lo hanno invaso. Dimmi solo dove... Ci hanno violentati, uccisi e hanno riso di noi per settimane. Ma siamo riusciti a scappare. Ci siamo battuti e l'abbiamo riconquistato e abbiamo capito il messaggio. O sei il macellaio o sei il bestiame. Dove sono gli uomini che hanno portato via dal vagone? Dove sono? Ora puntalo alla mia testa. Saresti potuta diventare una di noi. Avresti potuto ascoltare quello che il mondo ti sta dicendo. Attirate le persone qui, prendete le loro cose e le uccidete. Così funziona questo posto. No, non all'inizio. Abbiamo dovuto trasformarlo. Per poter stare ancora qui. Tu non sei qui. E nemmeno io. No! 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 Oddio, no! 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 No!